Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Piccolo spacchettamento per quanto riguarda la campagna C11 di Stenom. Dico piccolo perché ho avuto pochi ordini, ma ho pensato di girare lo stesso questo video perché secondo me ci sono dei prodottini molto molto interessanti. Vi lascio alle clip di tutto quello che hanno ordinato le mie clienti in questa campagna e ci vediamo subito dopo con i miei acquisti. I primi due prodotti fanno parte del programma Feteltà e stati con Eleganza. Questa cliente ha preso nel primo step altri prodotti e nello step di campagna C11 ha scelto questo set che è un set casa. All'interno ha il Daily Wash che come vedete è questo flacone da un litro e mezzo ed è un detergente concentrato per il biucato bianco e colorato. Ha un profumo irresistibile, una fragranza intensa e fresca dalle noti floreali. Ha una super efficacia, imbattibile contro lo sporco. È un detergente concentrato appunto sia per i bianchi che per i colorati. È possibile fare 42 lavaggi e insieme era abbinato con lo schiuma detergente intensiva per forni, ovvero oven, eccolo qua. Ed è un 400 ml ideale per forni, griglie, barbecue, girarrosti e per ugelli dei fornelli. Questo set era con oltre il 30% di sconto e veniva solo 14,90 euro. Per questo programma fedeltà si può avere la borsa Elegance dopo aver partecipato a tre campagne a soli 13,90 euro. Un'altra cliente ha acquistato questo prodotto che è il Mupen Duster. 400 ml ed è un rigeneratore di efficacia per accessori in tessuto. Fino a nove giorni senza polvere, un gesto ultra rapido per un risultato ottimale a lunga durata. Usalo per raddoppiare l'efficacia del tuo accessorio da spolvero. Fresca frananza dalle note floreali e orientali. Questo è il mangia polvere per eccellenza per quanto riguarda Stenom insieme al Quick Polish. Con oltre il 40% di sconto la mia cliente l'ha pagato solo 7,50 euro. L'ultimo prodottino che mi hanno acquistato è questo smalto che è della linea Flomar Jelly Look 11 ml, smalto per unghie effetto gel, manicure effetto gelatinoso senza l'utilizzo della lampada. Lei ha scelto la colorazione GL04 Scarlett e l'ha pagato solo 3,50 euro. Rieccoci con i miei acquisti. La prima offerta che ho voluto approfittare è il 1 più 1 gratis, quindi uno sconto del 50% sugli Active Train. Sono da 1 litro l'1 e sono detergenti potenti con soda caustica. Disgorgante e super potente che libera gli scarichi otturati in un lampo. Addio a scarichi bloccati. Questo può essere utilizzato sia come mantenimento ma sia come disgorgante classico. Questi due insieme venivano 12 euro, quindi è come se li avessi pagati 6 euro l'uno. Poi ho riacquistato uno dei miei compagni più fedeli per quanto riguarda il bucato. Sto parlando del pre-wash, che è uno smalto pre-lavaggio per bucato bianco e colorato. Si spruzza il prodotto direttamente sulla macchia, si lascia agire 2 o 3 minuti e poi si butta il capo in lavatrice. A fine lavaggio è completamente pulito e senza macchie. Ve lo stracco. E infine ho acquistato la BB Cream della linea Chiotis, della linea Vitamin Genesse, con oli essenziali di arancia, mila e cinnamon. Sono 50 ml con una scadenza di 18 mesi dall'apertura. Trovate due colorazioni. Bene ragazze, questo era tutto per quanto riguarda lo spacchettamento Stenum C11. Fatevi sapere, anche voi avete acquistato qualcosa da questo catalogo e se mi consigliate qualche prodotto in particolare. Vi ricordo, se non lo siete ancora, di iscrivervi al canale e di azionare la campanella, così da non perdere nessuno dei miei video. E nell'info box trovate i link al mio Facebook e Instagram, seguitemi anche lì. Io vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!